Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia e oggi realizzeremo insieme questo zainetto con lo swan glitterato. Spero che questo progetto vi piaccia, a me piace tantissimo, guardate così è come rimane, poi si può piegare ulteriormente qui, volendo, ha la sua pattina, dietro l'inserto è fatto in questo modo con le bretelle per poter essere indossato e appunto questo è quanto. Anche lo swan glitterato mi piace tantissimo, io ho scelto questo colore un po' bordeaux bruciato con l'oro assieme che è un colore un po' autunnale che va bene appunto in questo periodo e spero che appunto questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e io vi lascio il tutorial. Ciao! Presentandovi l'elenco del materiale che occorre per realizzare questo nuovo progetto ne approfitto per presentarvi anche delle novità nell'ambito della merceria che potete acquistare sul sito www.merceriamari.it che trovate in descrizione tutti i link delle cose che adesso andrò a presentarvi. La prima cosa che ovviamente è indispensabile è questo inserto per poter realizzare lo zainetto, quindi come vedete questo è un inserto molto molto ben fatto che ha la chiusura qui con la fibbia, così tutto è perforato, ha la pattina e dietro è già tutto fatto con, pronto per essere messo a spalle. È veramente un inserto bellissimo per di più è borchiato ed è disponibile in tre diversi colori. Quindi questo è ovviamente indispensabile per poter realizzare il progetto. Poi vi servirà dello swan. La novità che vado a presentarvi è che io adesso andrò ad utilizzare dello swan glitter. Quindi questa è la novità per sotto Natale, ma non solo. Per chi ama le pagliuzze e tutte le cose che sberluccicano è arrivato lo swan glitter che ha un filo di oro o di argento mescolato assieme ed è disponibile in tantissimi colori. Una volta si trovava solo oro, argento, nero e pochissimo altro. Invece adesso c'è veramente tantissime diverse tonalità e io ho scelto questa qua sul bordeaux che ha questo filino di oro assieme. Quindi mi raccomando se non l'avete ancora visto, se non l'avete ancora provato, almeno una cosa durante l'inverno io ve lo consiglio di realizzarla con questo nuovo filato glitterato. E poi l'altra novità che sono arrivati gli uncinetti a led, guardate che si illuminano. Mi servirà per questo progetto un uncinetto numero 3,5 e io andrò ad utilizzare questo qui a led anche se lo terrò spento perché ho paura che nel video vi confonda la visione, però sono veramente bellissimi, ci sono in alcune diverse misure e sono favolosi. Io ero una vita che li aspettavo, quindi questa è una chicca o anche per chi magari ha appassionato di uncinetto, anche un bel regalo da potergli fare perché è una cosa, diciamo, un po' nuova, una novità. Questo è quanto, quindi detto questo vi ricordo www.mercedemaria.it per acquistare tutte queste cose e vi lascio al tutorial. Quindi come prima cosa mettiamo il nostro filo sull'uncinetto, facciamo il nostro cappietto, ci inseriamo in un foro a scelta, prendiamo il filo da dietro e cerchiamo di farlo uscire nel davanti e facciamo una maglia bassa. Aspettate che prendo il filo giusto, eccolo qua. Voilà. Puntiamo di nuovo all'interno dello stesso foro e cerchiamo di far passare di nuovo il filo e fare un'altra maglia bassa. Così. Dopodiché ci spostiamo nel foro successivo, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Di nuovo entriamo all'interno del foro, prendiamo il filo, così, e facciamo una maglia bassa. Vedete? Che si formano queste V. Quindi dentro ogni foro del nostro inserto, della base del nostro inserto, andremo a inserirci con l'uncinetto all'interno due volte, facendo due maglie basse per ogni foro. Così. In questo modo. Proseguiamo così per tutto il giro, quindi di tutta la base, da qua, il davanti, fino all'altro lato. Vedete? Così. Guardate che bello anche l'urex adesso nel cordoncino che incomincia a vedersi meglio. A me piace tantissimo. Così. E così. E proseguiamo per tutto questo primo giro. Prima vi ho detto di iniziare dove volete. In realtà dovete assolutamente iniziare o da questo lato o dall'altro, perché non essendo un fondo normale come una borsa, noi non ci giriamo tutto attorno, ma adesso saliremo facendo solo questo giro, senza questo lato, perché ovviamente abbiamo l'inserto. Quindi dovete assolutamente iniziare o da un angolo o dall'altro. Sceglierete voi quali preferite, però sempre da un angolo, perché se iniziate per dire qui o qui, poi non riuscite a completare il giro senza staccare l'uncinetto, quindi è assolutamente inutile. Dovete per forza iniziare da uno degli angoli. Una volta fatto questo primo giro dove abbiamo fatto due maglie basse per ogni foro del nostro inserto, adesso andiamo a realizzare un giro di maglie basse dove qui negli angolini, nei tre punti degli angoli, quindi uno, due e tre, in questi tre, e di nuovo in questi tre andremo a fare un aumento. Quindi vediamolo subito assieme. Partiamo e andiamo a realizzare una maglia bassa per ogni punto. Quindi qui siamo così e tranquillamente vedete che sto andando a lavorare solo una maglia bassa. per ogni punto. Quindi adesso vedete che sono arrivata sull'angolo, faccio ancora un punto normale e poi in questi tre, uno, due e tre, andrò a fare un aumento per maglia. Quindi così. E poi nello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia bassa. La stessa cosa faccio per i due punti seguenti. Quindi una maglia bassa e nello stesso punto ne vado a fare un'altra. E così ancora per il terzo punto della nostra vaschetta. Quindi così e nello stesso punto un'altra maglia. Dopodiché continuo a lavorare senza più aumentare fino all'altro angolo dove farò di nuovo questi tre aumenti e fino al fondo lavorando le mie maglie basse. Una volta arrivato al fondo dell'altro lato e avendo fatto gli aumenti qui nell'altra curva come dicevamo prima, adesso iniziamo con la lavorazione vera e propria della borsa e andremo avanti fino a raggiungere l'altezza che desideriamo ovvero sotto la pattina del nostro zaino. Quindi per tutta questa altezza sicuramente dovremo lavorare con il punto che ho scelto che è un punto molto semplice ma molto d'effetto che ho già anche usato in altre borse e fatto vedere in altri video tutorial che vi ripropongo in questo perché pur essendo appunto un punto molto semplice io lo trovo molto d'effetto quindi adesso ve lo faccio vedere si tratta solo di scambiare delle maglie basse quindi assolutamente niente di complicato e poi come sempre siete liberi di realizzare questa borsa col punto che più vi piace potete anche fare solo maglia bassa solo maglia alta oppure anche punti più complessi esattamente quello che volete tenete conto che però lavorando in questo modo e avendo questa parete già utilizzata faremo quasi come fosse una lavorazione a pannello e non una lavorazione in tondo quindi tenete conto che la lavorazione che è andata a fare sia adatta appunto per le lavorazioni a pannello quindi adesso facciamo una catenella come nostra primissima cosa perché stiamo girando e tornando indietro dopodiché dobbiamo andare a fare una maglia bassa ma invece di andarla a fare nel primo punto andiamo a farla nel secondo quindi ne abbiamo saltato uno che però adesso andiamo a riprendere quindi torniamo su noi stessi andiamo a puntare nel primo punto che abbiamo lasciato indietro e facciamo un'altra maglia bassa e si crea appunto questo incrocio che a me piace tantissimo quindi adesso di nuovo saltiamo questa qua che è la maglia dove avremmo dovuto andare a lavorare e andiamo in quella successiva per poi tornare indietro e prendere la maglia che abbiamo saltato in questo modo quindi di nuovo salto la maglia che dovrei andare a lavorare vado in quella dopo e faccio una maglia bassa quando ho fatto questa maglia bassa torno indietro e punto nella maglia che ho saltato e vado a fare un'altra maglia bassa ancora salto una maglia vado in quella successiva e poi torno indietro e recupero quella che ho saltato vedete che non è proprio niente di complicato ma il punto è già un po' più lavorato ed è bellissimo quindi di nuovo ne salto una faccio una maglia bassa e vado indietro e recupero il punto saltato ancora così e proseguo per tutto il giro quindi arrivati alla termine anche di questo primo giro facciamo una catenella e voltiamo il lavoro in questo modo e ripartiamo realizzando un nuovo giro sempre col medesimo punto quindi una maglia bassa nella seconda torno indietro e recupero la prima maglia che ho saltato così adesso di nuovo una maglia bassa nella non nella prima maglia che avrei dovuto lavorare ma nella seconda torno indietro e recupero il punto che ho saltato quindi adesso io dovrei lavorare in questa maglia qua invece vado nella successiva quindi invece di puntare in questa che è quella dove lavorerei di solito andiamo se riesco a farvelo vedere meglio ok quindi io avrei dovuto puntare qui invece vado in quella successiva faccio la mia maglia bassa poi torno indietro e recupero quella che ho saltato adesso di nuovo dovrei lavorare qua invece vado nella successiva e poi torno indietro e lavoro quella che ho saltato prima e proseguiamo così per tutta l'altezza del nostro zainetto quindi realizzando sempre questi giri con questo punto guardate ho terminato adesso di realizzare la parte diciamo che compone il mio zainetto e in totale ho lavorato 30 giri di questo punto diciamo scambiato di maglia bassa e adesso vi faccio vedere come andarlo a fissare all'inserto quindi adesso per prima cosa dobbiamo andare a inserirci all'interno dei fori del nostro inserto e andare a lavorare due maglie basse all'interno di questi fori proprio come avevamo fatto qui nel primissimo giro dello zainetto se volete foderarlo dovete fare dovete farlo anche qui passando attraverso questi fori perché poi la fodera si attaccherà appunto qua altrimenti potete anche solo fare i due laterali dove invece andremo ad attaccare il pezzo che abbiamo lavorato questo dipende un po' da voi quindi ci inseriamo all'interno del primo foro dopodiché passiamo di nuovo sempre all'interno del primo è molto scomodo per me farvi vedere qui ma spero di riuscire appunto al meglio quindi passo il mio uncinetto da fuori carico il filo e lo ritiro all'interno sempre dello stesso foro così poi prendo di nuovo il filo così e chiudo la mia maglia bassa e devo proseguire così per tutto questo giro e per tutti i fori dello zainetto quindi adesso io in teoria lo devo girare in questo modo vedete passo all'interno del foro prendo il filo esco e chiudo facendo una maglia bassa di nuovo cerco di inserirmi all'interno dello stesso foro riprendo il filo riesco e faccio un'altra maglia bassa ora andiamo di nuovo nel foro successivo prendiamo il filo facciamo passare attraverso il primo foro e chiudiamo facendo una maglia bassa di nuovo facciamo la stessa cosa facendo un altro punto sempre nello stesso foro e proseguiamo così per tutto questo lato e per tutto l'altro e come vi ho detto prima se avete intenzione di fuderarlo dovete passare anche all'interno di questi fori qua questo appunto è quanto una volta lavorato tutto il lato io devo ancora fare gli altri comunque ho terminato il primo volendo senza staccare il filo possiamo già direttamente attaccare il nostro inserto da questo lato come? semplicemente tirando tutto bene così il nostro inserto dopodiché siamo qui vedete dove io ho il mio uncinetto attaccato mi infilo nelle asoline della parte che ho lavorato prima prendo il filo e chiudo facendo una maglia bassissima così dopodiché passo nella mia seconda asolina che ho appena terminato di fare quindi legato all'inserto e passo attorno all'asola della parte lavorata tiro e vado a fare una maglia bassissima voilà adesso di nuovo passo qui nella parte legata all'inserto qui nella parte che abbiamo lavorato prima quindi prendo queste due asole sull'uncinetto passo il filo attraverso queste due e chiudo con una maglia bassissima e vedete che l'inserto si fissa e resta attaccato qua ok quindi di nuovo passo il filo passo l'uncinetto qui dove nell'inserto passo qua dove abbiamo lavorato prima prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima e proseguo così per tutta la lunghezza del mio laterale guardate ho terminato adesso di cucire a maglia bassissima l'inserto alla parte lavorata all'uncinetto e questo è il risultato guardate anche dall'altro lato resta in questo modo e l'ho appunto unito a maglia bassissima quindi niente di complicato poi qui c'è la pattina che chiude e crea il nostro zaino mi piace veramente molto come è riuscito spero che vi piaccia anche a voi fatemelo sapere nei commenti vi lascio il link in descrizione della pagina facebook se volete mandarmi le foto delle vostre creazioni e vi ricordo che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamare.it ciao ragazze grazie a tutti